Siamo nel nuovo tratto della tangenziale urbana che collega via Bonconte da Montefeltro a via Le Santa Margherita che è stata aperta, avete visto una macchina che è passata, sono 10 minuti che è stata aperta al traffico. Concluso il prolungamento della tangenziale urbana nel tratto che collega via Le Santa Margherita a via Bonconte da Montefeltro, 800 metri a doppio senso di marcia in un'unica corsia che per la prima volta collega le due arterie cittadine. Situiscono quella che è la strada di Cadicio che almeno ritorna a essere una strada locale e in più con questi canali laterali si dovrebbe in qualche modo mitigare il problema degli allagami. Abbiamo anche completato l'illuminazione di Cadicio che così tutto il centro abitato è illuminato e sicuro. Quindi la loro trattoria all'inizio della nuova strada, del nuovo tratto di tangenziale è illuminato, poi il tratto centrale verrà illuminato probabilmente nell'inverno prossimo. Tra agosto e settembre infine saranno ultimate anche tutte le opere residuali relative al reticolo idrico vicino alla rotonda di via Le Santa Margherita.